Una discussione culminata ben presto in una violenta rissa succede a Trebisacce, nei pressi di un noto locale che per l'occasione delle feste pasquali era stato preso d'assalto dalla Movida. È stato proprio in mezzo al caos e dalla folla che alcuni giovani, presi inizialmente da un diverbio, hanno successivamente degenerato in una vera e propria zuffata tra compagnie di amici. Un'aggressione culminata con il ferimento di uno dei ragazzi, un 28enne di Francavilla Marittima. Il ragazzo è stato trasportato tempestivamente al vicino pronto soccorso, dove i medici lo hanno sottoposto agli esami clinici necessari. Ancora non si hanno certezze relative al motivo che ha spinto i giovani all'aggressione. Sul caso continuano intanto ad indagare i carabinieri per risalire all'identità di tutte le persone coinvolte e di sentire i testimoni che hanno assistito allo scontro.